Sostituite le stoviglie usa e getta e le bottigliette di plastica con utensili rigidi e riutilizzabili e l'acqua del rubinetto, un progetto che propone l'uso di strumenti utili per salvaguardare l'ambiente, messo in atto dal comune di Castellabate, che provvederà durante i pasti, tramite la Castellabate Servizi, alla distribuzione gratuita di uno specifico kit ecologico pensato per gli alunni. Una decisione in linea con una serie di iniziative volte ad una gestione ambientale, sempre più attente e scrupolosa. Il progetto permetterà di riorganizzare il servizio mensa, eliminando piatti, bicchieri e posati di plastica, ottenendo una cospicua riduzione annua di rifiuti di inquinamento da microplastiche, un dramma che ha risvolto i negativi per la salute pubblica. L'assessore alla pubblica istruzione Elisabetta Martuscelli sottolinea l'importanza della decisione, un esempio utile a tutti e che riuscirà sicuramente a responsabilizzare i bambini sull'importanza del riuso e sul rispetto dell'ambiente. Le comence infatti in linea con altri progetti di educazione ambientale, portati avanti in sinergia con le scuole e con il Parco Nazionale del Cilento, che intendono promuovere stili di vita sostenibili e la salvaguardia di tutte le risorse che la natura ci offre, acqua compresa.